Il libro in visione Chi ti ha mandato il libro in visione? Non lo conosco, rispose il piccolo editore, ma all'assoluto ci salvi da quelli che vedono, che sanno, che sono più degli altri. Perché? Perché non basta tendere alla spiritualità per scrivere un libro. Per una visione ulteriore della vita, fino a quando resti nella condizione umana, devi accettare la legge di reincarnazione. Per essere utili agli altri, scrivendo un libro, non basta tendere alla spiritualità.